Dopo un ottimo inizio di stagione caratterizzato dalle due vittorie in Coppa Italia di Serie C contro Vispesaro ed Ascoli, entrambe in rimonta, che hanno proiettato i toscani agli ottavi di finale della competizione tricolore, l'Arezzo è pronto ad affrontare il Campobasso nella prima gara di campionato. Il presidente Guglielmo Manzo, grande tifoso del Napoli, vuole migliorare l'ottavo posto della passata stagione. Alla guida tecnica dei toscani è stato scelto Emanuele Troise, partenopeo classe 79, allenatore emergente che predilige il 4-3-3, vice di pecchia al Latina, ha guidato con ottimi risultati Mantova, Cavese e Rimini. La società Aretina, a una settimana dalla chiusura del mercato, è alla ricerca di un attaccante e di un centrocampista, considerato che Mattia Damiani sarà out almeno per un mese dopo l'intervento al Minisco. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Cutolo ha annunciato l'arrivo del terzino sinistro Samuele Righetti e il rinnovo per l'attaccante Filippo Guccione. A 24 ore dall'esordio il Club Amaranto può contare su circa 1.100 abbonati, quasi la metà rispetto allo scorso anno, decremento dovuto sostanzialmente all'aumento eccessivo dei prezzi. Si giocherà allo stadio Città di Arezzo, ex comunale, un impianto inaugurato nel lontano 1961, ma oggetto di numerosi restyling. Grazie a tutti.